Domenica 15 luglio, ore 12.30, la situazione è sempre più critica e precaria per quanto riguarda questa perdita d'acqua che è iniziata da giovedì notte, quindi siamo già tre giorni che si nota questa perdita d'acqua, imponente senz'altro ma pericolosa anche perché sta fuoriuscendo e poi sta bagnando anche tutto il resto. Abbiamo qui di fronte il proprietario del bar Artemisia Caffè, Giovanni Simollica, che è disperato perché la prima volta ha subito il danno della perdita interno, oggi all'esterno noi siamo costretti a lavorare in condizioni precarie con rischi per i passanti, per i turisti chiunque può passare può farsi male ma soprattutto penso che sia uno spreco dove l'acqua manca in maniera esponenziale vedere tre giorni che l'acqua va senza fare niente credo che sia veramente uno spreco da parte del... Ecco, c'è da dire questo, che sono stati interessati anche i vigili urbani che già da venerdì hanno appunto interessato a Banoa che ha risposto che i lavori dovranno iniziare domani lunedì o giorno 16, quindi diversi giorni la perdita d'acqua come appunto diceva Giovanni ma anche la pericolosità e poi anche per il lavoro che a un certo momento viene nero. Sì, sicuramente il lavoro non gode in queste situazioni, dopo l'allagamento interno che abbiamo avuto credo che sia stato anche lì probabilmente un intervento più tempestivo forse poteva anche salvare questa situazione e credo che lasciare tre o quattro giorni l'acqua scorrere e cioè vedete come scorre, non è che sia un fuscellino ma è quasi un fiume qui davanti e penso che un intervento un pochino più deciso da parte anche dell'amministrazione comunale un po' da parte di tutti sarebbe stato quello che ci voleva direi. Bene, ma non è solo lui quello che è un po' adilato ma anche la gente che abita qui c'è una signora che addirittura grida vendetta per quanto riguarda che sta perdita d'acqua che come potete vedere dalle immagini sgorga da tutte le parti e poi anche è impossibile transitare perché arriva fino alle caviglie tanto per intenderci. Dopo il proprietario del bar la signora Gambino che è molto adilata per questa situazione qui anche perché è impossibile possa entrare a casa e poi? C'è una persona anziana di 90 anni davanti a un cancelletto c'era la fanghigna stamattina alta così l'ho dovuta tutta scopare con la scopa e mettere dei mattoni per poter uscire dal cancelletto ma è tutto un lago che uno come fa a uscire dalla porta se non vi è dentro una pozzanghera d'acqua così fangosa? Da quanti giorni? che abbia delle pozze d'acqua o dei zampilli alti fino a un palazzo l'altra volta io ho messo una pietra per chiudere una voragine d'acqua perché arrivava fino al palazzo di Bertorino in alto lo zampillo non si poteva uscire dal cancello perché doveva uscire con l'ombrello è una situazione davvero drammatica ecco è tutta questa acqua chi la paga? è quello eh dove andiamo andiamo ci sono paghiamo noi guardi qui qui un fiume che sta andando fino a... cosa vuol dire ad Abanoa? Abanoa di darsi una mossa a riparare tutti questi danni perché non è possibile che noi dobbiamo pagare tanta acqua inutile esatto non è potabile la paghiamo potabile adesso lo è il sindaco io ho sentito l'altra volta che dicevo una volta è potabile l'indomani non è potabile l'ultima ordinanza è potabile è potabile va bene va bene però l'abbiamo pagata fino adesso potabile questa perdita qui da... è un mare che sta andando a mare addirittura è arrivato giù a Calagavetta a mare non è possibile da via Domenico Millelire è arrivata giù signora grazie del... grazie a voi del vostro intervento grazie fa piacere che qualcuno si interessi certo, certo dei nostri problemi grazie